Questo è un fallo per voler cambiare una partita, stavamo subendo fisicamente e non riuscivamo a segnare Lui la vive molto come... No, l'ho notato perché loro non fanno un fallo neanche, tutto pulito no? No, non faccio un fallo Beh, un fallo neanche Però è il primo fallo che è stato un fallo... C'è un gol che ti ricordi, c'è un momento particolare che ti ricordi? E questo anno? In generale, sul futsal, un ricordo particolare del futsal che hai? Ricordo un po' con la mia squadra a Barcellona, che giocava, si chiama Rubi Era play-off, io ho fatto... Cinque giocatrici dell'altra squadra Che schifo che fai! Ma quanto si involverà? No, no, no Driven po' in porta Sì Però quando... però quando... però quando... però quando... non riesci a... Nooo... Non ce la fai! Che schifo... Che cosa fai? Sì, ma... Chissà proprio che è presa questa squadra... Sì, sarà il mio... Sì, sarà il mio... Sì, sarà il mio... Sì, sarà il mio...